Un'anima pura. Io voglio fare il medico. Vado a salvare la gente, non a ucciderla. Contrario a ogni forma di violenza. Non tocco le armi. Si è dichiarato obiettore di coscienza. Non aspettatevi che vi salvi sul campo di battaglia. Scoprì un nuovo modo di essere un eroe. Lì in battaglia. Mentre gli altri spezzeranno vite, io invece le salverò. Io ti amerò sempre. Qualunque cosa accade. Cerca di resistere. Un film di Mel Gibson. Forza! Per il ciclo Storie senza tempo. La battaglia di Hexo Ridge. Domenica alle 21 con Iris.